ciao a tutti ragazzi ben ritornati all'interno del corso di trading sportivo sul calcio qui all'interno della trading academy e benvenuti all'esempio live della strategia dynamic goal oggi ragazzi voglio parlarvi di questa strategia ma non soltanto della strategia in sé ma del concetto che c'è dietro a questa strategia perché è un concetto molto molto importante la strategia dynamic goal è alla fine un laid draw e alla fine un laid draw che entra nel momento migliore che entra nel momento in cui il mercato è statico e oggi ragazzi appunto voglio mostrarvi magari andando un po anche più nel dettaglio dato che ormai siamo alle lezioni quasi avanzate del corso di trading sportivo sul calcio una maniera più avanzata per appunto leggere e interpretare il trend di mercato e la bias di mercato per tutti coloro che ancora non conoscessero i concetti di bias trend tutte queste cose le spiego nel corso di trading di analisi dei mercati sportivi ma essenzialmente che cos'è la bias per bias ragazzi si intende quello che il pensiero di un mercato in un determinato punto all'interno dello stesso mercato dello svolgimento di questo mercato nel dynamic goal ragazzi noi stiamo cercando delle partite dove c'è una squadra favorita non troppo favorita se noi i pareggi naturalmente sono a quote molto molto alte però va benissimo anche squadre favorite o molto favorite che appunto stanno giocando molto bene e tengono il prezzo del pareggio molto costante molto statico perché perché l'asset del pareggio è costantemente un asset o addirittura a volte in crescita perché perché se la squadra favorita dovesse attaccare noi siamo entrati in laid draw all'inizio della partita naturalmente la quota del pareggio non è una quota molto interessante per i traders e per gli scommettitori proprio perché la squadra sta attaccando il buyer monaco oggi ragazzi purtroppo i campionati sono finiti come vedete l'euro 2020 sta arrivando quindi troverò una partita in australia perché sono convinto che ci saranno delle buone occasioni per un dynamic goal però appunto l'idea è questa quando c'è una squadra molto favorita o comunque favorita dai mercati che sta attaccando l'asset del pareggio rimane statico rimane stabile perché nessuno punta sul pareggio nessuno dà fiducia a un pareggio con una squadra molto favorita che all'inizio della partita inizia attaccando e inizia in maniera aggressiva ed è per questo che noi entreremo bancando il pareggio ovviamente la cosa migliore da fare è cercare delle squadre favorite che non siano oltre quote di 1.7 come vi dicevo anche all'interno delle slide oggi cercherò insomma di lavorare su una partita dove le quote sono leggermente più alte però sono convinto che la strategia si possa applicare in maniera efficace dove se naturalmente non funzionare noi usciamo dai mercati però la cosa importante ragazzi è sempre intercettare il pensiero dei mercati e per farlo utilizzeremo il relative strength index uno strumento che io utilizzo appunto all'interno di Fairbot per riuscire a comprendere quella che è la bias di un mercato quindi oggi cercheremo di fare appunto un lavoro un po' più diciamo avanzato ecco sul punto di vista dell'analisi dei mercati perché le strategie dinamiche non sono soltanto strategie da applicare quindi entrare sui mercati e usarle ma sono soprattutto strategie dove il contesto ecco di un mercato assume molto più interesse rispetto alla semplice strategia entra qua esci là fai questo e fai l'altro quindi controllare un mercato diventa fondamentale se vogliamo essere dinamici lavorare in maniera dinamica ed è per questo che oggi appunto voglio lavorare insieme a voi su questa partita in Australia andiamo subito a vedere appunto quella che è la partita che sta per iniziare tra pochissimo abbiamo il punto il western united contro il mac arthur e andiamo appunto a vedere che ci sono delle buone statistiche in realtà la squadra di in trasferta come possiamo vedere è a quota di circa due quindi in realtà non è una squadra estremamente favorita però secondo me potrebbero esserci delle buone occasioni perché perché il pareggio è a 4 e 10 e perché comunque la squadra in trasferta tende comunque a fare gol e dovesse comunque anche fare gol o dovesse essere molto aggressiva la squadra di casa potrebbe esserci un cambio di trend potrebbe comunque esserci un cambio di bias e quindi questa diciamo che è una partita che magari non è perfetta ecco non è perfetta non è magari una squadra perché quello che io vorrei vedere soprattutto è la squadra in trasferta in questo caso che segni per prima che sia più aggressiva mentre in realtà abbiamo delle statistiche abbastanza simili anzi potrei dire che la squadra di casa tende a segnare un po di più diciamo che quella in trasferta appunto il mac arthur ha un 75 per cento di score questo mi piace quindi vuol dire che una squadra che comunque segna in trasferta e potrebbe appunto essere la squadra che attacca però quello che ci interessa appunto è l'asset del pareggio in questo caso è appunto l'asset del pareggio quindi per farlo andiamo appunto su fair bot andiamo naturalmente a cercare questa partita mac arthur eccola qua western city contro mac arthur e andiamo appunto all'interno del match odds ragazzi andiamo all'interno del match odds per vedere che la partita è iniziata da due minuti il mac arthur da 1.98 è sceso a 1.86 questo vuol dire che comunque è una squadra che sta giocando abbastanza bene quindi entro chiedendo 4.3 al mercato in lay the draw quindi entro con un lay the draw all'interno appunto di questo mercato e adesso una volta che entro naturalmente sull'asset lay the draw cerco di monitorare l'andamento di questo mercato innanzitutto la cosa che vi consiglio di fare attraverso gol profits chiaramente andare sul live stats module andare a vedere appunto la partita vedere che il mac arthur ha già iniziato con un tiro fuori dallo specchio della porta due minuti non era praticamente ancora iniziata la partita già hanno fatto un tiro quindi sicuramente una squadra che adesso sta attraendo la liquidità tutti staranno investendo sul mac arthur e questo è molto interessante per noi perché perché il pareggio difficilmente scende se il mac arthur la squadra favorita attacca come possiamo vedere era addirittura se qua diceva 1.98 i prezzi prematch su bet fair adesso siamo già 1.88 10 tx non è male in 3 4 minuti ovviamente ragazzi non lo so con quale precisione questa quota quando è stata diciamo calcolata e appunto registrata però in ogni caso è la squadra che sta attaccando è una squadra che diciamo adesso siamo tornati a 1.9 però quello che possiamo vedere che il mac arthur ha avuto sicuramente un drop ha avuto sicuramente un drop probabilmente addirittura questo drop è avvenuto prematch quindi gli investitori addirittura prematch sono stati interessati alle quote ma come possiamo vedere la liquidità entrata la liquidità entrata quindi è sicuramente un asset di mercato che sta attraendo la liquidità in questo momento abbiamo circa 80.000 sterline abbinate detto questo ragazzi a noi ci interessa adesso restare sul mercato ovviamente questa è una partita un po atipica ma di nuovo ve la mostro perché siamo in australia e mattina ovviamente non ho la possibilità di trovare altre partite ma il concetto è molto molto semplice una volta che noi entriamo con un dynamic goal e quindi stiamo praticamente lavorando sull'asset del pareggio dobbiamo cercare di monitorare appunto l'andamento di questo mercato e per farlo io utilizzo appunto un relative strength index che cos'è un relative strength index molto semplicemente è uno strumento che mi aiuta a capire la forza di un trend quindi mi aiuta a intercettare quello che è il pensiero all'interno di questo particolare asset di mercato e ovviamente quello che a me interessa è un asset che abbia appunto un trend abbastanza rialzista e appunto relative strength index me lo mostra appunto con questa barra blu se volete poi maggiori informazioni sugli strumenti tecnici ho un intero corso di analisi tecnica dei mercati sportivi su now trade dove spiego tutte le varie i vari strumenti insomma molto molto vado molto nel dettaglio ma all'interno appunto di questo video devo soltanto dirvi che se io ho tanti indicatori in blu questo mi fa capire che il prezzo è un prezzo appunto abbastanza rialzista i mercati non sono assolutamente convinti e non puntano soprattutto su questo asset quindi molto molto interessante a me piace con un dynamic goal assolutamente avere questa tipologia di rilevazione e non questa tipologia questo vuol dire che un mercato ribassista vuol dire che in questo momento c'è stata un po' di liquidità abbinata il prezzo del pareggio è sceso da 4.2 a 4 questo drop ha fatto rilevare appunto il nostro relative strength index un un come si dice un andamento ecco ribassista di questo mercato ma ovviamente bisogna contestualizzarlo ragazzi perché il relative strength index lavora soprattutto quando c'è tanta liquidità se ovviamente c'è un singolo drop causato dall'ingresso di 50 euro o 100 sterline ovviamente questo non è un dettaglio particolarmente interessante ma se costantemente dovesse esserci tanta tantissima liquidità è il relative strength index che continua a dirmi che la bias di mercato è rialzista questo è fantastico perché mi fa capire che è un mercato dove continua a esserci liquidità continuano gli investitori traders e gli scommettitori a inserire appunto liquidità all'interno di questo mercato ma appunto il trend è rialzista quindi la maggior parte di questa liquidità sta andando comunque in lato banca il pensiero dei mercati è lato banca e questo naturalmente mi piace come vedete ragazzi il pareggio non si sta muovendo troppo siamo al sesto minuto e adesso naturalmente la loss è di 7 sterline 5 c'era anche un po di spread ragazzi tra le selezioni ma di nuovo questo è un caso abbastanza limite vedrete che se andate a prendere squadre un po più favorite di mccartur fc vedrete che l'asset del pareggio non si non si muoverà ecco così tanto a me interessa appunto come si dice mi interessa questo mercato perché volevo appunto vedere innanzitutto e tornare a vedere insieme a voi appunto il rating che per adesso è abbastanza a favore del mccartur fc ma soprattutto volevo mostrarvi che si può comunque restare all'interno di un mercato anche 20 25 minuti senza avere dei danni particolarmente grossi sull'asset appunto del pareggio soprattutto appunto se la squadra in trasferta in questo caso dovesse continuare ad attaccare la squadra di casa ragazzi dall'altra parte questo è un mercato che mi piace in due in due modalità diverse perché a quote di 4.2 sicuramente se dovesse arrivare a un gol soprattutto un gol abbastanza rapido da parte del western united o meglio se dovesse arrivare un gol rapido del mccartur fc è fantastico per questa strategia ma se dovesse arrivare anche un gol alla mezz'oretta circa del western united l'asset del pareggio non ne risentirebbe così tanto quindi in ogni caso questo è un trade dove non c'è una squadra enormemente non favorita questa appunto è una squadra che se dovesse fare gol noi ci aspettiamo un prezzo appunto di circa due due e mezzo forse sulle quote di casa quindi in ogni caso è un mercato con una squadra dove comunque un caso di gold potrebbero esserci delle buone occasioni come possiamo vedere ragazzi l'asset del pareggio continua a essere stabile continua a essere stabile 4 4.2 noi siamo entrati a 4.3 come possiamo vedere la liquidità sta entrando sull'asset del pareggio e il trend è riassista questo ci piace ragazzi questo ci piace quando lavoriamo appunto in dynamic goal questo ci piace perché le quote non si schiodano il punto incrementale comunque i punti incrementali che ci sono all'interno di queste quote ci aiutano il mercato tra l'altro è stato sospeso ragazzi e potrebbe essere arrivato un gol perché il prezzo del McArthur stava scendendo quindi sicuramente stava attaccando stava molto probabilmente creando delle buone occasioni all'interno di questa partita potrei far partire lo stream ragazzi però poi per motivi di copyright dovrei come si dice fare tutto il adesso non è successo nulla comunque però non posso ecco mostrarvi le immagini live della partita ma sicuramente è successo qualcosa ragazzi sicuramente è successo qualcosa che non sappiamo però appunto qualcosa è successo perché il mercato è stato sospeso forse un potenziale calcio di rigore un fallo di mano cose di questo tipo comunque non è successo nulla ragazzi siamo all'interno del decimo minuto e l'asset del pareggio in questo momento sta scendendo quindi la bias di mercato come possiamo vedere è abbastanza ribassista in questo momento ma se la nostra squadra McArthur FC dovesse ritornare ad attaccare ad avere un buon rating e insomma a giocare una buona partita vi posso assicurare l'asset del pareggio tornerebbe su infatti sta ritornando leggermente su e questo ci permette ragazzi essenzialmente di essere molto dinamici perché noi siamo entrati in realtà al punto più alto ma abbiamo preso sto prezzo perché c'era spread ragazzi in realtà c'era spread io potevo benissimo entrare a 4.1 e guardate 4.1 praticamente 10 minuti di partita restavo sul mercato quasi senza rischio questo è fantastico vedete che l'asset del pareggio ci sta mettendo tanto a scendere vedete appunto che c'è stata una buona parte di partita dove addirittura hai salito per restare stabile e adesso lentamente ragazzi lentamente sta scendendo quindi comunque questo di nuovo non è il caso migliore la quota di nuovo sta salendo siamo di nuovo sempre verso 4 ma comunque riusciamo a restare un 10 15 minuti sicuramente all'interno di questo trade con ovviamente l'aiuto di McArthur FC che deve attaccare che deve appunto cercare il gol però in ogni caso vi posso garantire ragazzi se noi soprattutto guardassimo la partita e riuscissimo a capire se davvero il McArthur sta giocando bene o se comunque sta creando delle buone occasioni questa è una strategia fantastica ragazzi perché riuscite a restare nel mercato davvero a bassissimo rischio veramente a bassissimo rischio al ventesimo ragazzi o al venticinquesimo si può uscire in questo particolare mercato non lo so la bias di mercato potrebbe cambiare abbastanza in fretta e potrebbe 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 scusate il mercato andare contro di me un po' di più rispetto ad altri mercati qua sicuramente al venticinquesimo la mia loss più o meno sarà il doppio di questa cosa che invece su partite dove c'è una chiara favorita che attacca soprattutto questo ci interessa ci serve la squadra che attacchi perché questo permette ai mercati di continuare a essere riforniti di liquidità in lato punta sulla squadra favorita e ovviamente l'asset del pareggio spesso addirittura sale ragazzi quindi riusciamo addirittura a uscire in profit senza un gol a volte addirittura però appunto serve una squadra leggermente più favorita di questa che continui ad attaccare qua comunque abbiamo una squadra non troppo favorita che in realtà non sta attaccando così tanto ma l'asset del pareggio continua a restare stabile quindi questo vi fa capire le potenzialità applicate a un incontro dove appunto c'è la chiarissima favorita quindi non c'è molto da fare ragazzi adesso restiamo ancora magari o adesso vi saluto e tra poco ritorniamo per vedere se dovesse continuare ad attaccare oppure no soprattutto perché volevo farvi vedere come la rilevazione ecco del relative strength index mi aiuta ecco a capire quello che è il trend di questo mercato come possiamo vedere io per calcolare appunto se un trend è rialzista o ribassista ovviamente guardo il grafico e ovviamente guardo il relative strength index con la liquidità che magari tolgo da questo verde un po' troppo chiaro che magari non si riesce bene a capire la liquidità come si dice guardo i punti di out scusatemi i punti appunto di selling e di buying quando c'è un over buying un oversell per cercare di metterli insieme e capire quello che è il trend di mercato questo è un mercato abbastanza poco liquido infatti è per questo che abbiamo tanti segnali di oversell di over buying perché perché ogni volta che entra un po' di liquidità il prezzo il prezzo cambia non c'è tanta liquidità sui mercati quindi quando non c'è tanta liquidità come possiamo vedere in realtà questo è il western united sul pareggio andiamo a vedere il pareggio volevo riempicciolire questo ok facciamo così come vedete non c'è liquidità ragazzi e quindi ogni volta che entra un po' di liquidità su questo mercato adesso probabilmente sale il prezzo ovviamente ci sono 1100 sterline sulle quote di 4 quindi in realtà c'è un po' di liquidità questo sicuramente è un punto di pressione del mercato il prezzo adesso probabilmente scenderà ancora un po' e quindi diciamo che questo è un mercato dove non ci sono tanti soldi e quindi non c'è tanto interesse in teoria per fare un'analisi tecnica approfondita dovremmo andare a vedere appunto la liquidità che c'è su questa squadra come possiamo vedere il meccarture fc in realtà ha tanta liquidità in lato punta questo è interessante gli investitori i trader sono interessati a questo prezzo sono interessati a entrare in lato back quindi adesso è scomparsa un po' di liquidità quindi sta togliendo i soldi dal mercato probabilmente però come possiamo vedere di nuovo ci sono stati dei è entrata tanta liquidità è entrata tanta liquidità sul mercato sono entrati quasi 1000 sterline quindi sicuramente sta succedendo qualcosa ragazzi all'interno di questa partita come possiamo vedere l'asset del pareggio in questo momento però sta scendendo in maniera abbastanza rapida questo probabilmente vuol dire che l'altra squadra sta giocando bene questo vuol dire appunto che sta succedendo il contrario sia che il western united sta iniziando ecco a giocare un po' bene e quindi ragazzi qua si può scegliere qua si può scegliere come vi dicevo si può benissimo scegliere di uscire ecco in cash out quindi prendersi una loss che comunque è del 14 15 per cento del nostro investimento e ci può stare ragazzi perché in realtà non tutti i canoni sono stati rilevati però nel mio relative strength index vedo che ci sono molti più punti rossi rispetto a quelli blu e soprattutto sono più consistenti quindi chiaramente la bias di mercato in questo momento sta proprio cambiando come possiamo vedere adesso sono tanti soldi sul pareggio quindi gli investitori i traders adesso sono su quell'asset sono su quell'asset e stanno appunto capendo ponderando che cosa sta succedendo quindi sicuramente in questa partita sta succedendo qualcosa magari la vado a guardare ragazzi noi ci rivediamo tra poco per appunto calcolare semplicemente quello che è successo all'interno di questo mercato con il dynamic goal e eccoci qua ragazzi sono uscito dal mercato ho equalizzato i mercati per una loss di 17 e 81 quindi circa un 18 per cento sul mio investimento iniziale di loss di nuovo non il mercato migliore e soprattutto un mercato dove la squadra tendenzialmente favorita non ha assolutamente dimostrato di essere così tanto favorita dall'altra parte sull'asset del mccartur in realtà le quote sono rimaste abbastanza stabili quindi il mercato è abbastanza ancora convinto che questo mccartur possa essere la squadra favorita un 50 50 ecco un 50 50 circa come possiamo vedere però comunque sul pareggio c'è stata una diciamo una discendenza ecco una discesa più che altro una discesa del prezzo costante abbastanza costante non ci sono stati tanti momenti in cui il mercato del pareggio è rimasto stabile ma questo soprattutto ragazzi perché non ci sono stati tiri non c'è stato nulla e anzi c'è stato un tiro in porta da parte tra l'altro di diamanti ex giocatore italiano naturalmente del bologna insomma di tante anche altre squadre dove appunto c'è stata un'occasione pericolosa e questa occasione pericolosa sicuramente il mercato l'ha interpretata però come possiamo vedere ragazzi 12 attacchi pericolosi in 25 minuti di partita chiaramente non è stata la partita corretta non è stata la partita giusta come possiamo vedere non c'è stato tutto questo dominio se voi doveste per esempio lavorare in dynamic goal guardando il rating di goal profit che è assolutamente molto attendibile vi consiglio di vedere appunto la squadra favorita avere un rating almeno di 10 avere un rating almeno di 8 9 10 ma con la squadra avversaria con un rating da 0 come in questo caso appunto 1 5 non basta ecco vorremmo una squadra più aggressiva più forte però in ogni caso ragazzi siamo rimasti nel mercato comunque 20 minuti buoni ecco 20 minuti circa e la nostra loss comunque è stata sicuramente moderata ecco moderata per la tipologia di mercato vedrete ragazzi che adesso si può lavorare in maniera ancora più dinamica perché si possono aprire altre posizioni adesso si può aprire per esempio un passive snipe 0.5 magari se la partita dovesse iniziare a essere aggressiva cercare per esempio di recuperare il nostro la nostra loss che comunque è abbastanza bassa su un mercato first half goal over 0.5 come possiamo vedere le quote sono di 2 12 quindi in realtà il nostro investimento non necessariamente è così alto però appunto la partita deve tornare a essere un po diciamo più aggressiva ed è per questo ragazzi che bisogna essere dinamici andiamo a guardare appunto nei primi tempi quanti goal arrivano il mc arthur 67 per cento delle volte nei primi tempi si è verificato un goal abbiamo un 71 per cento di probabilità di goal nel primo tempo lo swing il rating è abbastanza buono il come si dice il time frame solitamente dice che tra il 30 e il 45 in realtà tendono ad esserci un po di goal e un po di occasioni potrebbe essere un'occasione per essere dinamici e passare a un altro asset di mercato però restare ragazzi sul pareggio con un dynamic goal in questo particolare mercato non era la scelta giusta proprio perché la natura del mercato stava chiaramente andando contro di noi e appunto poi dovesse esserci un goal per esempio del western united con il mc arthur che attacca dovremmo saremmo in una situazione non troppo positiva quindi ragazzi la chiave è sempre essere dinamici la chiave è sempre cercare le occasioni come vedete il prezzo sta scendendo il prezzo sta scendendo quindi non ha senso in questo momento rimanere con un con un trade aperto di questo tipo tra l'altro c'è stato un grossissimo drop adesso sulla quota non so bene che cosa sia successo però in ogni caso ragazzi questo è il dynamic goal dovete fare tanta pratica trovare tante partite vedrete che le loss saranno frequenti ma saranno inferiori saranno inferiori se trovate appunto le partite perfette io mi aspettavo un mc arthur attaccare un po di più se avesse attaccato un po di più la loss sicuramente sarebbe stata inferiore sarebbe stata di circa tra l'altro probabilmente appena arrivato un goal vedremo quello che è successo è proprio arrivato il goal del mc arthur ragazzi quindi va benissimo va benissimo è appena arrivato il goal io sono uscito dal mercato perché il mercato non era più affidabile e questo è importante questo importante sono contento ecco che sia successo sono contento fino a un certo punto perché chiaramente potevo restare sul mercato e avere un buon profit però ragazzi quando il mercato appunto non non è più nelle nostre condizioni ideali la cosa migliore da fare è tagliare le loss perché ragazzi nel calcio i goal arrivano e non arrivano quindi non dovete guardare questa partita come appunto uno standard universale dove appunto sarà sempre così noi usciamo e sarà subito goal vedrete che nella nel lungo periodo tenderete appunto a trovare molte più partite dove i goal arrivano nei momenti giusti se seguite i giusti punti d'ingresso i giusti punti d'uscita ma soprattutto avete visto quello che vi dicevo essere dinamici magari goal adesso arriva ma non state sul mercato late draw non state sul mercato del pareggio andate per esempio sul mercato first half goal 0.5 dove le quote erano comunque a due fischi erano oltre a quote di due quindi c'era sicuramente un'ottima occasione ragazzi per entrare sul mercato con una micro stake da 0.2 punti e subito riprendersi la loss che avevamo conseguito appunto sul mercato del late draw quindi siate dinamici ragazzi ma quando è il momento di uscire dal mercato uscite dal mercato adesso le quote sono salite a 5.8 come possiamo vedere questo ragazzi è esattamente il punto noi siamo entrati praticamente qua all'interno del mercato adesso ci troveremo in questa situazione per naturalmente avere un ottimo profit e l'ottimo profit ragazzi arriva soprattutto perché il incremento delle quote è più importante ovviamente se io dovessi entrare appunto su un late draw a questo punto ovviamente adesso ho preso la mia loss però se dovessi appunto come si dice adesso prendere le quote come possiamo vedere da quote appunto di 4.2 vedete appunto che c'è un incremento decisamente più importante rispetto all'incremento che c'è su altre quote più basse no quindi molto molto importante ragazzi questo sarebbe stata una ottima ottima operazione purtroppo ragazzi dobbiamo appunto chiudere con questa loss e a imparare ecco dai mercati ogni volta si deve imparare ma la loss comunque è stata assolutamente molto 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 contenuta ecco volevo soltanto farvi vedere il potenziale profit ragazzi volevo soltanto farvi vedere il potenziale profit facciamo che la quota adesso in lato back andiamo a confrontarle sono arrivate a 5.8 noi siamo arrivati entrati a 4.3 quindi quello che voglio andare a fare con voi è andare a utilizzare il goal profits hedge calculator per andare a calcolare il potenziale profitto che appunto non è entrato perché il goal è arrivato quando noi eravamo fuori dai mercati noi abbiamo bancato prima quote di 4.3 con una stake da 100 il back price si trova 5.8 con una commissione standard del 2 per cento come possiamo vedere ragazzi avremmo avuto un ottimo ritorno avremmo avuto un ottimo ritorno per restare appunto sul mercato poco appunto un ritorno del 25 per cento vi ripeto molte volte sarà ancora più interessante il nostro profitto altre volte sarà un po meno interessante ma soprattutto ragazzi questo è una strategia un piano di investimento interessante perché come vedete l'analisi rischio rendimento è a nostro favore le volte in cui noi andremo in profitto e se ragazzi cerchiamo squadre favorite che attaccano che stanno assediando molte volte il goal arriva e quindi vi posso assicurare che le volte in cui andremo in loss le loss ragazzi saranno inferiori del 17 per cento saranno circa del 8 9 10 per cento a volte addirittura se trovate le squadre davvero favorite che attaccano il prezzo del pareggio sale addirittura andrete in profitto addirittura senza i goal quindi potete stare tranquilli che un'analisi rischio rendimento ottimale veramente molto molto buona ma si impara ragazzi dai mercati e molto probabilmente adesso opereremo con altre strategie perché ricordo che le partite hanno 90 minuti quindi comunque c'è sempre la possibilità di essere dinamici anche su altre modalità di investimento sempre durante la stessa partita quindi vi saluto ragazzi grazie per aver seguito il dynamic goal e noi ci vediamo nelle prossime puntate nelle prossime lezioni del corso di training sportivo sul calcio